Ho invitato l'uomo ad indossare la mascherina, ad abbassare i toni e a spiegarmi cosa fosse successo perché potevamo benissimo trovare una soluzione. Mi ha urlato contro parole pesantissime, ho subito una molestia da parte sua, l'ho respinto e la sua reazione è stata un'improvvisa e violentissima testata. Il cliente nella ristorazione vede chi lavora come lo schiavo che ti porta, quello che ti serve. Non è così, noi lavoriamo come lavora un pubblico ufficiale, come lavora un operatore sanitario, noi offriamo un servizio, noi dobbiamo essere rispettati. Venerdì sera, mentre ero in cucina, io sono una cuoca del ristorante Ogreco di via San Sebastiano, lavoro al centro di Napoli, mentre ero in pieno ritmo lavorativo ho sentito delle urla disumane provenire dall'ingresso del ristorante dove mia zia lavora alla cassa, al bancone, e mi sono diretta all'esterno per capire cosa stesse accadendo. La scena che mi sono trovata di fronte è stata violentissima, ho trovato quest'uomo che urlava contro mia zia delle parole orrende e nel momento in cui è stato richiamato all'ordine da quest'ultima ed invitato ad uscire all'esterno ha cercato di aggredirla ed io mi sono messa tra i due per evitare che il peggio ecco accadesse a lei. Ho invitato l'uomo ad indossare la mascherina, ad abbassare i toni nei confronti di due donne e da spiegarmi cosa fosse successo perché potevamo benissimo trovare una soluzione. L'uomo però ha inveito anche contro di me, mi ha urlato contro parole pesantissime. Le parole sono state davvero bruttissime, tutte riferite ad atti sessuali, quindi davvero molto brutte e violente e brutte da ripetere. Ho subito una molestia da parte sua, per molestie ovviamente non intendiamo molestie verbali, bensì sessuali, fisiche e la mia reazione spontanea in quel momento è stata urlargli contro che era un viscido perché all'età di mia madre, che poteva essere mio padre, l'ho respinto e la sua reazione è stata un'improvvisa e violentissima testata. Al suo fianco c'era la sua compagna, da donna a donna mi sono state dette parole pesanti anche da lei, ha tentato ancora di aggredirmi dopo la testata, però c'era al mio fianco un mio conoscente, una persona adulta, che l'ha subito fermato. Lui ha tentato di scappare, però è stato bloccato all'esterno anche dai militari che si sono trovati fortunatamente a passare proprio in quel momento. Hanno insieme poi aspettato l'arrivo degli agenti di polizia che l'hanno poi identificato. Io sono stata soccorsa dai clienti, dai passanti gentili a prestarmi soccorso fino all'arrivo poi del 118. Per 20 minuti forse ho sanguinato in una maniera pazzesca, davvero incredibile. Sono stata sottoposta ad una TAC, TAC e radiografia. La diagnosi è un trauma cranico e una frattura della piramide nasale. Se al mio posto ci fosse stata mia zia, forse non ne staremmo qui a parlare così. È stato proprio questo quello che io ho voluto evitare. Ci sono episodi ogni giorno, in ogni parte del centro storico. Bisogna far qualcosa. C'è anche l'ordinanza che noi ristoranti, attività commerciali in generale, dobbiamo rispettare. Quella di dover chiudere all'una dalla domenica al giovedì, alle due il sabato e la domenica. L'ordinanza che è stata fatta contro la mala movida per evitare che la mala movida faccia proprio queste cose qui. Però alla fine a che serve se poi non succede alle due, succede alle undici. Non ci vogliono restrizioni, ci vogliono più controlli. Il cliente non ha sempre ragione, non è così. Il cliente nella ristorazione vede chi lavora come lo schiavo che ti porta, quello che ti serve. Non è così. Noi lavoriamo come lavora un pubblico ufficiale, come lavora un operatore sanitario. Noi offriamo un servizio, noi dobbiamo essere rispettati. Mi ha procurato una cicatrice sul naso. Lui la stessa se l'è procurata in fronte. E spero davvero che ogni volta che si guardi nello specchio riesca a farsi schifo, davvero. Deve mettersi vergogna, deve ricordarsi di quello che ha fatto in fronte di una ragazza che sarebbe potuta essere la figlia. Mi auguro che lui riesca a provare vergogna, almeno questo.